Al quinto posto, abbiamo la lavora Aspiratore multifunzione Combo 4 in 1. Se non il più grande aspirapolvere, senza dubbio questo lavorvascio 8.243.0024 è tra i migliori aspirapolveri della sua categoria, poiché ci permette di aspirare da terra qualsiasi cosa grazie a una struttura robusta, un'ottima potenza e un'incredibile facilità di uso. Innanzitutto, è confortante sapere che un dispositivo del genere è totalmente creato. Al numero 4, abbiamo K.A. Condier Exerker 1.629821.0 WD3. Il Karker WD3 è un bidone per aspirapolvere dalla classica forma cilindrica e dal peso di circa 6 kg. È uno strumento ideale per chi ha ampi terrazzi da pulire o garage officine. Inoltre è facile da trasportare, grazie alle quattro ruote di tipo pirouettante che troviamo sotto di essa. Le dimensioni sono medie, 34 cm x 39 cm x 52,5 cm. Un'altra caratteristica, forse meno appetibile di altre, è la lunghezza del cavo elettrico, che pur essendo 4 metri, potrebbe non essere sufficiente per le grandi officine. Al terzo posto, abbiamo la K.A. Condier Exerker WD4 Premium Aspiratore. Il Karker WD4 è un'aspira liquidi molto potente, grazie ad un motore da 1600 W, che garantisce ottime prestazioni, ideale per rimuovere dal terreno sporco umido o secco. Inoltre, avendo un motore ad alta efficienza energetica, non consuma neanche eccessivamente. Il cestino è molto versatile, anche perché al tubo di aspirazione è possibile collegare vari accessori, alcuni dei quali già inclusi nella confezione. Questo cestino, come gli altri di Karker, monta l'esclusivo filtro con sistema di estrazione brevettato, molto facile da rimuovere e pulire. In questo modo la manutenzione è semplice e veloce. Al numero 2, abbiamo il K.A. Condier Exerker WD3 Premium Aspiratore. Il Karker WD3 Premium è un'aspirapolvere a bidone molto versatile e multifunzionale. Tra le sue caratteristiche principali, non possiamo non evidenziare il suo fantastico rapporto qualità, prezzo. A proposito di questi ultimi, se vuoi conoscere i prezzi degli aspirapolvere, ti basta consultare il link che trovi in questa pagina. Per conoscerne le caratteristiche, però, continuate a leggere. Questo aspirapolvere è ideale sia per uso domestico che aziendale. Buona è la dotazione degli accessori che troviamo nella confezione, mentre ci accontentiamo un po' meno della lunghezza del cavo elettrico, che è di 4 metri. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il K.A. Condier Exerker WD6P Premium. Il Karker WD6P è un aspiratore industriale completo di accessori e quindi particolarmente versatile, ideale per un utilizzo sia domestico che semiprofessionale in officine e garage. Tra le caratteristiche principali, ricordiamo la presenza di una presa per la corrente, alla quale è possibile eventualmente collegare gli utensili elettrici. Ovviamente, se si prevede di utilizzarlo in un mini appartamento, non è proprio la migliore idea, in quanto le sue dimensioni sono piuttosto importanti, ma può fornire un validissimo aiuto su terrazze e giardini. Vediamo ora nel dettaglio quali sono le sue caratteristiche principali. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come e condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri. Grazie per aver guardato il nostro canale per i video.